E cioè è la musica e la voce di Roberto Sainz. Ci propone un programma variegato che spazia dal blues, rock al canto autorato. Dunque, una garanzia visto che l'anno scorso, quando siamo stati in corte filanda, insomma è stato molto apprezzato, quest'anno ritorna con nuovi pezzi e insomma con la sua musica. Ricordo, prima di salutarvi, che successivamente ci sono i fuochi alle 22.45 e poi proprio qui vicino nella sede nuova per noi come festa di Piazza del... Sì. 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 Sì.